Un saluto amici di Simonello, come state? Oggi sono qui come promesso, come vi ho promesso nella community per fare un Simonello risponde. Ho qui le domande che mi avete fatto nei giorni precedenti, ora andremo a fare, andrò a rispondere. Allora, a quale giocatore famoso somigli quando giochi a calcio nella sua squadra? A chi ti ispiri? Allora amici, io sono un difensore barra centrocampista, più o meno. Allora, io secondo me, alcuni miei compagni mi hanno detto che assomiglio a Sergio Ramos, perché faccio delle belle scivolate. Mentre a chi mi ispiro, io mi ispiro a Maldini, che secondo me è il difensore più forte della storia. Ti piace la nuova maglia del Milan? Cosa pensi con i nomi circolazione riguardanti il nostro mercato? Riusciremo a lo rottare per lo scudetto. Forza Milan. Questo da Federico Martinoia. Ti ringrazio innanzitutto Federico e ti saluto. Ho saluto anche user11w8iq8g. Non so chi sia, però comunque ciao e grazie user. Rispondo alla domanda di Federico. Secondo me possiamo giocarci? Magari non lo scudetto, però secondo me una squadra dal secondo posto c'è tutta. Secondo me si potrebbe lottare con l'Inter o la Juve per il secondo posto. Secondo me se la Juve riesce a creare un bel gruppo, vince lo scudetto. Però mai dire mai per il nostro Milan. Le due nuove maglie del Milan mi piacciono molto. Come voto in tutto generale gli do un bel otto e mezzo. Bappe verrà mai al Milan? Domanda di Alex. Innanzitutto, ciao Alex, grazie per aver contribuito. Bappe verrà mai al Milan? Allora, secondo me un giorno ci verrà. A fine carriera magari, tra dieci anni, sette. Secondo me farà quei cinque anni a Real Madrid, più altri due. Quindi secondo me ne fa sette. E poi magari va in una squadra tipo Liverpool per andare in Premier a fare due anni e poi concludere la carriera qui al nostro amato Milan. Grazie Alex, un saluto. Milan è l'officiale, l'ozio Andrea. Dei possibili nuovi acquisti, chi ti incuriosisce di più? Allora, quello che mi incuriosisce di più sinceramente è Emerson Royal. Perché secondo me se fa bene questa stagione potrebbe alzare il suo riverlo e magari tra qualche anno si potrebbe rivenderlo. Perché comunque è abbastanza giovane. Non giovanissimo però. Comunque volevo dirvi un'ultima cosa prima di concludere il video. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto delle domande. Ringrazio, vi ringrazio anche per essere così tanti che mi seguite. E presto uscirà un video su tutte le mie maglie da calcio. Penso verso settembre-ottobre. Perché comunque dovrebbero non arrivarmi le altre. Comunque amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Grazie a tutti quelli che mi avete fatto domande. Presto magari arriverà qualche video sul fantacalcio. Fatemi delle domande. Presto ritornerà anche il Simonello risponde. Penso una volta alla settimana. Comunque presto troverete nella community un altro. Scrivete qui sotto delle domande per il nuovo Simonello risponde. Comunque vi faccio sapere. Ciao amici. Ci vediamo. Ciao.